Radio Radicale, siamo con il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi per parlare del voto in Umbria. Allora questo è un voto importante, delicato, perché insomma arriva dopo la vittoria del centrodestra in Liguria e insomma si ha l'impressione che ci sia un vento di centrodestra sia in Europa. Insomma che cosa succederà? È uno scenario molto diverso da quello della Liguria anche se ho visto si è cercato in qualche modo di utilizzare la carta giudiziaria contro la T6 a tempo scaduto. Come sta andando? Io penso che sia andando bene, nel senso che c'è un centrodestra molto coeso, molto compatto con un programma di governo ben fatto, fatto di tante proposte serie e concrete per il futuro della regione, a cominciare dalla necessità di chiudere il ciclo di rifiuti, costruendo un impianto che possa evitare il riempimento, purtroppo siamo molto al limite, delle discariche umbre e quindi un provvedimento che è il frutto di un piano regionale rifiuti approvato in questa legislatura, mancava da 10 anni o 15 anni il piano regionale rifiuti, abbiamo fatto molto anche per la riorganizzazione degli ospedali in questi 5 anni, sul turismo, sulle infrastrutture, quindi ci presentiamo con le carte in regola, dall'altra parte mi pare che ci sia tutto il contrario di tutto, con un programma non noto purtroppo e quindi una situazione in cui c'è solo strafottenza, arroganza, la candidata Presidente ha strappato il programma del centrodestra, un gesto veramente di una gravità inaudita. Ci ha fatto un incontro pubblico dove a un certo punto ha preso e ha strappato… Sì, alla presenza della Schlein, tra l'altro. Lei la Schlein che ha detto? Non è che ha detto, ma come… No, 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 assolutamente, infatti ci siamo molto meravigliati, però che è indicativo di un atteggiamento radicale, direi, di deriva verso una ideologizzazione del confronto e dello scontro politico e quindi è un errore, secondo me, clamoroso. Noi comunque andiamo avanti per la nostra strada, stiamo facendo una bella campagna solo per dire ai cittadini cosa vogliamo fare nei prossimi 5 anni e poi i cittadini sono sovrani e quindi accetteremo il verdetto popolare. Sulla sanità, allora l'Umbria è una regione dove l'età media forse è leggermente un po' più alta rispetto alla media nazionale. Quali sono i problemi della sanità, anche se non si tratta di un territorio molto esteso dove si può fare un intervento efficace, le problematiche che avete dovuto affrontare quali sono? Le problematiche della sanità sono quelle dovute ai due anni e mezzo di Covid che hanno stravolto l'organizzazione dei servizi. Nonostante questo noi portiamo un dato che stiamo comunicando in campagna elettorale ma vedo che la controinformazione anche di alcuni giornali purtroppo stenta a farlo emergere. Noi abbiamo ridotto del 50% le liste d'attesa. Prima che arrivassero, quando siamo arrivati noi, nel 2019, c'erano 88 mila persone in lista d'attesa. Oggi sono 43 mila. Quindi esattamente la metà. Abbiamo fatto un grande lavoro nonostante il Covid che ha completamente stravolto l'organizzazione dei servizi e purtroppo nonostante il fatto che negli anni di governo della sinistra non si è costruita una rete sia di ospedali nuova, efficiente, sia di territoriale con più organizzazione sul territorio. Abbiamo fatto l'elisoccorso. Oggi anche l'azienda ospedaliera di Terni in cui è stata dotata, è stata inaugurata da poco di elisuperficie e quindi è un ospedale veramente di alto livello. Abbiamo costruito le condizioni affinché si arrivasse alla progettazione esecutiva del nuovo ospedale Nardi Amelia. Insomma, tante cose sono state fatte. Certamente sulla sanità c'è molto lavoro da fare perché appunto dopo il Covid c'è stato uno stravolgimento del servizio sanitario nazionale che si è riverberato anche e soprattutto sui territori. Quindi su questo ci sono dei chiari per i prossimi anni di continuare a lavorare, utilizzare le tecnologie e poi beneficiare anche del provvedimento del Governo nazionale che ha finalmente allargato il numero chiuso a medicina e quindi avremo più medici forse a disposizione. L'acciaieria è la situazione del tessuto industriale della regione? L'acciaieria per noi è un asset strategico della regione e soprattutto della città di Terni. su questo stiamo lavorando molto e bene per assicurare la massima collaborazione a un'azienda che compete sui mercati mondiali. C'è il problema dell'energia, certamente non è una questione che riguarda solo l'Umbria, riguarda tutta Italia, però abbiamo predisposto, stiamo in fase di definizione, un accordo di programma col Governo proprio per fare in modo che ci siano tutte le condizioni affinché si possa dispiegare il piano industriale che l'azienda ha predisposto e che prevede addirittura quasi un miliardo di investimenti. Cosa dicono le previsioni della vigilia? Il centro-sinistra si è presentato apparentemente più unito rispetto alla Liguria, basta questo per dire che forse la partita può essere riaperta con la T6? I sondaggi ci danno tutti in vantaggio, però i sondaggi li lasciamo da parte, noi stiamo lavorando molto, mi pare che ci sia una risposta positiva e quindi siamo ottimisti e poi vedremo. Grazie come sempre al portauce di Forza Italia, Raffaele Nevi, con il quale abbiamo parlato del voto in Umbria. Grazie. Grazie, grazie.